Buongiorno a tutti, è un po' che non ci sentiamo qui sul canale di Alumotion. Nel frattempo immagino che molti di voi abbiano già acquistato il suo primo cobot, oppure alcuni si stanno ancora domandando a cosa mi può servire un robot collaborativo e perché dovrei comprarlo. Bene, oggi parleremo di Lean Robotics, quello che fa per voi. Alumotion lavora da più di dieci anni nel mercato dei robot collaborativi e sono ormai all'attivo più di 600 installazioni qui in Italia. Nel corso degli anni abbiamo unito altri marchi che permettono di semplificare l'utilizzo del robot stesso in azienda e permettono di soddisfare le esigenze più svariate nel mercato dell'autobazione flessibile. Lavoriamo con multinazionali, leader di settore e soprattutto con piccole e medie aziende del nostro tessuto italiano. Oggi avremo il piacere di introdurre la metodologia della Lean Robotics, introdotta da Samuel Bouchard, il fondatore di Robotik. Robotik è un produttore di accessori per robot collaborativi, dalle pinze elettriche adattive, a sistemi di visione, a sistemi di controllo in forza, software per semplificare la gestione di parametri che potrebbero essere complessi nell'utilizzo di robot collaborativi, software per la gestione remota e, appunto, come vi ho anticipato e come vedremo più nel dettaglio, questa fantastica metodologia chiamata Lean Robotics. E quindi Allomotion come può essere utile alla vostra azienda? Il motto di Robotik è libera le mani degli operatori. Che cosa si intende? L'idea alla base è quella di identificare tutti i lavori ripetitivi che vengono eseguiti dagli operatori e cercare di automatizzarli per fare in modo che gli operatori si concentrano su lavori a più alto contenuto, a valore aggiunto. Il concetto che sta alla base di tutti questi discorsi sono flessibilità e facilità d'uso. Investite in piattaforme facili da utilizzare. Cercate di standardizzare, di non concentrarvi sulla creazione di soluzioni su misura, perché questo vi consentirà di poter riutilizzare i componenti con cui avete costruito le celle robotiche. E non per ultimo, create all'interno della vostra azienda know-how e cercate di condividerlo all'interno della vostra azienda, così come noi cercheremo di condividere il nostro know-how con le vostre esperienze. Eccolo qui, pronto all'uso. Due settimane di consegna, lo portate a casa, lo sballate, lo installate, seguite un po' di corsi online dal sito di Universal Robot, venite qui da noi, fate un corso approfondito e nel giro di mezza giornata siete già in grado di fare la vostra prima applicazione di Pika in Place. Ma la vera sfida non è muovere il robot, la vera sfida è costruire un'applicazione. Dovete scegliere dei sensori che permettono al robot di percepire l'ambiente, scegliere che tipo di gripper o di tool mettere al polso del robot per poter muovere le parti, comunicare con le altre macchine con cui il robot si dovrà interfacciare, con che protocolli, con degli ingressi delle uscite o con dei bassi industriali. Dovete pensare a come far arrivare le parti, quindi un nastro trasportatore, un pallet preformato, un sistema intelligente di vibrazione, un sistema di visione particolare e poi una volta che avete finito la progettazione della cella c'è anche da pensare alla sicurezza per l'operatore. L'intervento di oggi si baserà su un libro della Lear Robotics scritto da Samuel Bouchard che è il fondatore di Robotik. Questo libro lo potete trovare in Amazon in diversi formati, potete averlo cartaceo, potete averlo ebook, potete averlo anche audiobook. Ah, sì sì sì, li trovate anche da noi. Quindi è una metodologia che divide il processo di creazione e installazione di una cella robotica in tanti passi, che ci consente di migliorare la gestione del progetto, che ci consente di verificare quali sono le attività a basso contenuto o le attività ad alto contenuto, e ci consente anche di trovare gli strumenti che ci permetteranno di scalare, quindi di poter installare più applicazioni e più celle robotiche nella nostra azienda. Possiamo dividere il metodo della Lear Robotics in tre fasi, la fase di design, ovvero la fase di progettazione, la fase di integrate, ovvero la fase di implementazione e la fase di operate, ovvero la fase di produzione. Andiamo a capire quali sono gli step intermedi di queste varie fasi. Nella fase di design, il primo obiettivo è quello di mappare esattamente che cosa fa l'operatore, come lavora l'operatore sul prodotto o il processo che vogliamo automatizzare. Vi consiglio di utilizzare video e foto per documentare quanto fatto dall'operatore. In secondo luogo, dobbiamo fare un'ipotesi, un parallelo su una possibile applicazione robotica, per cercare di copiare i movimenti dell'operatore in un'ottica robotica. Incroceremo quindi le due soluzioni e cercheremo di bilanciare e di ottimizzare le due proposte per trovare una proposta definitiva che sia quella che ci porterà poi al disegno definitivo di cella e quindi anche all'elenco dei componenti che dovremo andare ad acquistare e anche al progetto definitivo di come dovrà essere realizzata la cella robotica. Nella fase di integrate invece dovremo implementare, quindi assemare tutti i componenti che abbiamo acquistato, dovremo cominciare la programmazione e fare il primo ramp up di cella. Quando saremo soddisfatti metteremo la cella in linea, cercheremo di fare la prima produzione e quindi fase importante dovremo istruire gli operatori sia dal punto di vista dell'utilizzo tecnico della cella stessa ma anche dal punto di vista della sicurezza. Nella fase di operate non dovremo fare nient'altro che monitorare l'andamento della cella, quindi trovare dei parametri, dei KPI che ci permettono di capire se c'è una possibilità di migliorarla, se ci sono delle difficoltà e quindi delle cose da aggiustare oppure se la performance può essere quella desiderata oppure nell'ottica di un continuous improvement migliorata nel tempo. Se stai seguendo questo video probabilmente sei già in una fase di perseguimento e di miglioramento continuo, uno dei punti fondamentali della filosofia Lean e probabilmente hai già affrontato tutta la fase di standardizzazione dei processi interni. Uno degli obiettivi potrebbe essere anche quello di creare più automazione all'interno della tua azienda e se parte di questa automazione è un'automazione che coinvolge i robot allora la Lean Robotics potrà essere il tuo successivo passo. Il primo punto che dobbiamo sicuramente andare a focalizzare è quali sono gli obiettivi che vogliamo migliorare, che vogliamo perseguire. Vi faccio degli esempi, potrebbe essere la diminuzione dei costi di produzione, l'aumento di capacità produttiva oppure ci sono dei problemi di qualità da migliorare, efficienza di processi oppure ergonomia dei lavori. Prima di proseguire con la fase di design però ci sono delle operazioni preliminari che sono quelle che riguardano le persone che saranno coinvolte nel progetto. La prima cosa da fare è quella di definire un team di lavoro, quindi le persone che lavoreranno attivamente al progetto in corso. Successivamente dobbiamo cercare il progetto corretto, qual è l'applicazione più corretta per iniziare, lo vedremo con le prossime slide. Il terzo punto è quello di informare anche le persone che non lavoreranno attivamente ma saranno gli utilizzatori del sistema, quindi facciamo un esempio, gli operatori di linea, come si approcceranno a questo nuovo robot collaborativo. E per finire dobbiamo anche comunicare la visione aziendale, il perché abbiamo necessità di inserire una tecnologia come questa in azienda, perché vi assicuro per la nostra esperienza che se non comunicato in modo corretto il robot viene visto come un pericolo. Bene allora, il primo suggerimento che ci sentiamo di darvi è quello che non ci stancheremo mai di ripetere, partite facile. Che cosa vuol dire partire facile? Lo spieghiamo con questo grafico. In orizzontale abbiamo messo il tipo di progetto, da una parte quello che abbia un alto impatto dal punto di ritorno dell'investimento oppure del miglioramento dei parametri che abbiamo visto prima. Sulla parte verticale invece abbiamo definito se l'applicazione è facile da realizzare o difficile. Bene, il primo tipo di progetto che dobbiamo andare a scegliere o andare a scovare nella nostra azienda è quello che abbia alto impatto dal punto di vista economico ma che sia facile da realizzare. Vabbè, fin qui mi sembra abbastanza ovvio. Il secondo passo invece, questo forse meno ovvio, che vi consigliamo, è quello di andare a cercare sempre un'applicazione facile ma che abbia un minore impatto dal punto di vista del ritorno dell'investimento. Questo perché? Intanto il primo concetto che vi voglio dare è quello che Cobot, i robot collaborativi, sono delle macchine che possono essere facilmente riutilizzate. Quindi possono essere facilmente riprogrammate, facilmente spostate da una posizione all'altra. Quindi è probabile che parte delle informazioni o delle conoscenze che abbiamo acquisito nell'applicazione numero uno, quella del primo quadrante in basso a destra, possono essere risfruttate anche nella seconda, quella del quadrante in basso a sinistra. Inoltre abbiamo anche acquisito non solo conoscenze dal punto di vista della programmazione del robot, ma anche della realizzazione della cella. E quindi il fatto di andare a sfruttare tutti i benefici che abbiamo avuto dalla prima, ci porteranno a realizzare la seconda automazione in pochissimo tempo. Solo dopo aver terminato tutte le applicazioni facili, diciamo, nella vostra azienda, il nostro consiglio è quello di andare a cercare soluzioni difficili. Quindi cercare soluzioni difficili ad alto impatto e evitare l'utilizzo di automazioni flessibili nelle applicazioni a basso impatto e difficili da realizzare. Probabilmente quali rimarranno ad opera di operatori manuali oppure si cercherà di utilizzare un'automazione di altro tipo. Quindi questo che vi ho appena detto è quello che ci porta a entrare in questo circolo virtuoso. Partiamo dalle applicazioni più facili. Perché? Perché hanno meno costo di realizzazione. Se hanno meno costo di realizzazione avranno un ritorno dell'investimento più alto. Se avranno un ritorno dell'investimento più alto ci sarà più spinta ad andare a cercare nuove soluzioni da automatizzare con i robot. Quindi questo ci porta ad avere più conoscenze dal punto di vista sia della programmazione sia dell'inserimento del robot nell'applicazione e via che si riparte con il giro. Bene, fino adesso vi ho parlato di applicazioni facili e applicazioni difficili. Ma come si fa a capire se un'applicazione per un robot o per un cobot è facile o difficile? Il nostro robot è bravissimo a ripetere sempre gli stessi movimenti come qui sopra. Tutto il giorno non movimenti complicati ma sempre uguali e sempre a tempo costante. Partiamo con degli esempi di applicazione. Per esempio il pick and place è un'applicazione ripetitiva e facile da realizzare. Quindi prendere delle parti da una posizione fissa e posizionarli in una posizione di destinazione. Piuttosto che simile al pick and place potrebbe essere un'applicazione di assemblaggio dove abbiamo il corpo in cui andranno a essere destinate le parti da assemblare e un altro punto, un altro pallet dove prendiamo i vari componenti che poi dovremmo assemblare. Altro esempio molto 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 gettonato. Carico e scarico di una macchina utensile. Quindi vediamo un po' di concetti del pick and place, un po' forse di concetti anche dell'assemblaggio perché la parte deve essere presa e essere messa nel mandrino ma di base è un'applicazione semplice da realizzare. Così come anche un certo tipo di finitura superficiale o anche di sbavatura può essere facile da realizzare perché se andate a pensare il movimento può essere sempre quello per il robot e anche i parametri per andare a guardare sulla superficie possono essere in qualche modo standardizzati. Altri esempi possono essere l'avvitatura che come andate come potete pensare può essere anche lì un tipo di pick and place con dei parametri chiaramente in più legati al concetto di avvitatura ma molto molto più vicino al pick and place è la palletizzazione. Un compito facile per il robot è quello di prendere dei componenti e posizionarli in modo preciso. La cosa comincia a diventare complicata quando dobbiamo andare a inserire parametri di forza che vi ricordo che sono parte integrata di un robot collaborativo la gestione della sua forza però certo andare a unire informazioni di posizionamento con dei feedback di forza come nel caso per esempio di una sbavatura su una mola o come per esempio nel caso di un inserimento forzato o di un poca ioke non dico che non è possibile ma è sicuramente nella categoria delle applicazioni più difficili. Un altro concetto è quello che riguarda le parti che arrivano se le parti sono sempre uguali della stessa dimensione della stessa altezza allora il task è facile se le parti invece che andremo a fornire al robot sono sempre differenti con geometri differenti diametri differenti altezze differenti allora diventa più difficile anche il fatto di andare a dosare la forza anche in questo senso cioè utilizzare parti rigide o parti deformabili o fragili. Un altro concetto che non è legato a come è fatta la parte ma come arriva la parte è il tipo di presentazione della parte si dice quindi se la parte ci arriva su un pallet ordinato un tipo semplice di programmazione per il robot creare una matrice di punti se invece le parti arrivano all'aria infusa in un cassone oppure arrivano su un nastro trasportatore con delle velocità che possono addirittura variare allora anche in questo caso l'applicazione diventa difficile. Vi ricordo che il robot collaborativo è una macchina che proprio per la sua natura collaborativa non ha delle velocità incredibili e quindi tutte le applicazioni che necessitano di tempo cicli molto brevi oppure movimenti molto veloci per un cobot non sono le applicazioni più facili da realizzare. Così come dal punto di vista della programmazione se non ci sono tante eccezioni nella nella logica di funzionamento del robot con eccezioni intendo i classici esempi se succede questo allora devo fare quest'altro oppure fai questo fino a che non succede questo evento e poi fai un altro tipo di cosa allora fino a quando non ci sono troppe eccezioni la programmazione è veramente facile con un cobot quando invece le eccezioni cominciano a diventare tante e quindi dobbiamo anche integrare diversi sensori di ambiente allora ripeto non è impossibile ma andiamo a classificarci in un'applicazione più difficile da realizzare un'ultima cosa che vi voglio andare a dire è quando è facile da utilizzare uno strumento quando è tutto integrato qui c'è l'esempio del telefono classico no? che cosa c'è però di integrato nel telefono? Beh c'è uno schermo, una telecamera, un microfono, un gps e poi ci sono le app che ci permettono di utilizzare velocemente e senza pensarci tutti questi componenti andate a pensare come potrebbe essere difficile andare a integrare il tutto ecco il cobot può essere una macchina integrata perché grazie ai caps e non sono nient'altro che delle app per il robot che coinvolgono sia parti hardware sia parti software il cobot può essere una soluzione integrata vi faccio un esempio, una telecamera, una pinza, esistono diversi prodotti tra questi molti di Robotic che possono essere collegati facilmente dal punto di vista meccanico al robot e possono essere programmati facilmente perché contengono essi stessi un software simile a un'app mentre se andiamo a cercare dei componenti che non sono integrati in un cobot ma che arrivano da parti terze allora l'applicazione diventa più difficile da realizzare secondo suggerimento, mantieni facile che cosa vuol dire? fino adesso abbiamo chiesto cerca l'applicazione più facile da automatizzare ora che l'abbiamo scelta dobbiamo cercare di creare una cella facile cioè che contenga il minimo indispensabile per poter realizzare l'obiettivo dell'automazione non vi immaginate quante volte ci capita andando da clienti di capitare in questa situazione facciamo l'esempio di un carico scarico di una macchina utensile si fa il primo disegno, si fa la prima proposta e il cliente dice beh arrivati a questo punto perché non aggiungere anche un controllo qualità con una telecamera di alta precisione oppure anche l'imballaggio alla fine dello scarico della macchina oppure perché invece di andare a prendere i pezzi dal pallet non andiamo a prenderli direttamente dal cassone ecco questo è il tipico esempio del trasportare un'applicazione facile ad un'applicazione difficile con il risultato di non avere più chiaramente di non poter più arrivare all'obiettivo del ritorno dell'investimento corretto e anche del tempo di installazione più breve possibile terzo consiglio non partire dal disegno di cella spesso si è portati a guardare un'applicazione e a dire sembra proprio l'applicazione per un robot collaborativo ma poi facendo domande al cliente e chiedendo qual è il tuo obiettivo di produttività alcuni mi sanno rispondere in modo vago piuttosto hai problemi di qualità? forse sì, forse no quindi la prima cosa è già stata detta obiettivo la seconda cosa è controllare il processo dall'alto controllare esattamente che cosa fa l'operatore per non rischiare di dimenticare alcuni accorgimenti importanti che poi ci faranno perdere tempo nella fase di operate quarto suggerimento usa le tue conoscenze o le tue competenze chi meglio di voi conosce i vostri processi aziendali? chi meglio di voi conosce i trucchi del mestiere? gli altri due punti avere competenze nella gestione di un progetto robotico e anche le competenze robotiche sono degli skill che possono essere in qualche modo appresi oggi anche forse in modo più semplice di una volta ci sono tantissime risorse online per esempio vi invito a guardare tutte le risorse online di e-learning che mette a disposizione Universal Robot o mette a disposizione anche RobotX stessa ci siamo noi che vi possiamo dare dei consigli ci sono dei webinar le applicazioni possono essere fatte insieme ma sicuramente i trucchi del mestiere non ve li potrà insegnare nessuno anzi sarete voi che li terrete girosamente quinto consiglio durante la fase di design potrebbe succedere che vi vengano dei dubbi perché non avete profonda conoscenza degli accessori che dovrete scegliere per la vostra applicazione o anche della capacità di risolvere alcune cose del robot stesso ecco quindi uno dei consigli è quello di farvi una lista di questi dubbi pensare a come poter risolvere alcuni punti critici della vostra applicazione e se non vi sentite confidenti che la vostra soluzione sia applicabile pensare a come abbiamo scritto come validare la cosa cioè chiedere ai vostri fornitori o anche a noi di farti delle prove per verificare che quel tipo di dubbio sia soddisfatto nel modo in cui pensate di risolverlo voi oppure sia soddisfatto con altri consigli che possono essere dati dai fornitori sesto suggerimento evitare soluzioni ad hoc come vi ho detto il mondo dei cobot è pieno di componenti standard riutilizzabili sia dal punto di vista della programmazione sia dal punto di vista del robot stesso sia dal punto di vista dei componenti che possiamo collegare e vi assicuro che oltre alla parte di sensori oltre alla parte di sensori di visione oltre alla parte di tool da attaccare al robot ci sono tantissimi accessori banchi di lavoro standard dedicate per un certo tipo di applicazione che vi consentono veramente di partire velocemente con la vostra applicazione sul campo questi accessori possono anche essere riutilizzati in altre applicazioni l'abbiamo già detto quindi il consiglio è cercare di non customizzare ma fare una ricerca approfondita sul mercato per trovare soluzioni standard settimo suggerimento tieni conto del tempo di progettazione nel calcolo del ritorno dell'investimento che cosa vuol dire? spesso si pensa anzi si ha la tendenza a fare questo tipo di ragionamento magari si spende tre mesi per la fase di progettazione e non intendo solo nel disegno della cella come vi ho detto prima ma nella ricerca dei fornitori giusti dei componenti giusti nella ricerca del tempo di consegna migliore nella ricerca del terzista che mi possa creare quell'attrezzatura particolare quindi questo tipo di tempo sprecato non lo recupererete più quindi nel momento in cui andate a definire qual è il vostro tempo di realizzazione della cella la parte di design deve essere tenuta in considerazione in questo grafico vedete che ci sono delle parti che stanno nel lato value added cioè valore aggiunto e delle parti non a valore aggiunto vi faccio degli esempi come vi ho detto prima nella parte di design il fatto di cercare fornitori il fatto di provare quella soluzione customizzata come vi ho detto prima nella parte di integrate andiamo a pagare quegli errori che abbiamo fatto nella parte di design quindi abbiamo scelto il sensore sbagliato proviamo ad attaccarlo e non funziona e nella parte di operate banalmente se la cella non funziona bene il robot si ferma e non riusciamo a produrre quanto avevamo pensato quindi nel momento in cui fin dalle fasi iniziali facciamo una progettazione corretta tutte queste attività a non valore aggiunto vengono ridotti il grafico si stretcia e quindi andremo a guadagnare del tempo sulla produzione quindi banalmente se riusciamo a partire due mesi prima con la produzione con la soluzione automatizzata tramite Cobot guadagneremo due mesi di produzione automatica prima di finire e concludere un ultimo pensiero questa è la foto dell'autore del libro con il suo primo computer il Commodore 64 sicuramente possiamo immaginare quanto ci sia stato eccitato immagino che alcuni di voi l'abbiano avuto e quanto sia stato contento di utilizzarlo quanta curiosità c'era nei primi approcci con questa tecnologia oggi come sono cambiate le regole del gioco sicuramente non c'è più il Commodore 64 ci sono le console ci sono i cellulari ci sono i tablet ma sicuramente la curiosità per il robot è tanta ecco forse il pensiero è proprio questo il fatto di adottare tecnologie come i Cobot nella propria azienda consente sì di automatizzare velocemente un processo industriale ma anche di diventare interessanti per nuove eleve e nuovi talenti che potranno lavorare nella nostra azienda perfetto allora alla fine di questi consigli manca solo una cosa scegliere accuratamente la prima applicazione e partire con la vostra prima applicazione con robot collaborativi alla prossima e partire Grazie.